Articolo 1. La donna nasce libera e ha gli stessi diritti dell'uomo. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'interesse comune. Articolo 2. Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili della donna e dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e soprattutto la resistenza all'oppressione. Articolo 3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione, la quale non è altro che l'unione della donna e dell'uomo. Nessun corpo e nessun individuo può esercitare autorità che non provenga espressamente da loro. Articolo 4. La libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto ciò che appartiene ad altri. Così l'unico limite all'esercizio dei diritti naturali della donna, la perpetua tirannia dell'uomo cioè, va riformato dalle leggi della natura e della ragione. Articolo 6. La legge deve essere l'espressione della volontà generale. Tutte le cittadine e i cittadini devono concorrere personalmente o con i loro rappresentanti alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti. Tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammessi a tutte le dignità, posti e impieghi pubblici, secondo le loro capacità e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti. Settembre 1791. Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. Francia. Olymne de Gouget è l'autrice di questo meraviglioso testo. Eh sì, avete capito bene. Settembre 1791. E ripetiamolo. Settembre 1791. Buon 8 marzo a tutte. Guardo te, mamma. Vedo la tua vita non facile, fatta di educazione antica, quella per reprimere sogni e desideri, dura di campi e di fatica. Guardo la tua schiena curva, segno che qualche battaglia l'hai persa. Guardo te intera e vedo che molte battaglie le hai vinte grazie alla tua vitalità. Guardo te, sorella, la tua forza solo un poco più asciutta. So che ritroverai il fiume di energia che ti fa ridere a bocca spalancata. Intanto ti ringrazio per le innumerevoli strade che mi hai aperto. Guardo te, figlia, vedo che sbocci bellissima in un'altalena continua di colori, orgoglio, incertezza, sogni ed esperienza. Sento per te la mia altalena di apprensione e gioia. Guardo voi, amiche, vedo le risate, i pianti, le lunghe confidenze e le intese con poche parole. Vedo il porto delle vostre braccia che sempre mi accoglie quando la rotta si fa incerta. Guardo voi, compagni di lotta, vedo il cielo conquistato pezzo a pezzo e so che un giorno, spero molto presto, riusciremo ad essere alla pari davvero l'altra metà del cielo. Vi guardo tutte e sono orgogliosa di appartenervi. Grazie, donne. Un pensiero per tutte le donne, madri, figlie, nonne, sorelle, mogli, amiche, mediche, infermiere, insegnanti, lavoratrici in ogni settore. Per tutte le donne che in questo tempo oscuro e sospeso, in questo tempo faticoso e doloroso, silenziosamente, ogni giorno regalano cura, attenzione, amore, tenerezza, comprensione, ascolto, pazienza e tenacia e accoglienza, camminando contro vento. Ora propongo uno stralcio di una bellissima poesia di Alda Merini. Quelle come me. Quelle come me regalano sogni, anche a costo di rimanerne prive. Quelle come me donano l'anima, perché un'anima da sola è come una goccia d'acqua nel deserto. Quelle come me tendono la mano e aiutano a rialzarsi, pur correndo il rischio di cadere a loro volta. Quelle come me guardano avanti, anche se il cuore rimane sempre un passo indietro. Quelle come me cercano un senso al desistere e quando lo trovano tentano di insegnarlo a chi sta solo sopravvivendo. Quelle come me girano il mondo, alla ricerca di quei valori che ormai sono caduti nel dimenticatoio dell'anima. Quelle come me vorrebbero cambiare, ma farlo comporterebbe nascere di nuovo. Quelle come me urlano in silenzio, perché la loro voce non si confonda con le lacrime. Alda Merini. Buon 8 marzo a tutte le donne del mondo, alle donne che lavorano, alle donne che lottano, alle donne che cadono e sanno sempre rialzarsi. Buon 8 marzo, alle donne che camminano contro vento. Donna. Poesia di una donna, dedicata alle donne, alla loro forza, alla loro fragilità, alla loro bellezza. Quella ferita tra le tue gambe e la sua sete, quella vita che ti sbuccia tutta e ti ricompone. Sei un parto che ti colma e prosciuga e mai finisce. Partorisci amore, sogni, scorribande di sorrisi, un profluvio di mani e di carezze. Partorisci ombra, pena, una carità che spezza, una fatica che issa lo sconforto oltre il guado. Piangi cristalli e arcobaleni, riempi con l'acqua i mari e ripristini il sale. Ma se ti attardi dietro i passi di chi vuole esserti padrone, se inciampi dietro le sue smanie, se riduci il tuo corpo e pieghi il cuore al suo compiacimento, diventi terra sterile, alito stile. Sottrai linfa a chi potrebbe abbracciarti e renderti sorella. Fare di te pane e acqua, un rigoglio di luce e benedire con le sue labbra tutte le tue preghiere. Tienti stretta al ventre della terra che nel solco delle tue mani è incisa la mappa della misericordia e del divenire in armonia che si inchina alla tenerezza. Maria Letizia del Zompo questo video per restituire in parte il forte valore simbolico della giornata internazionale della donna. Una giornata di lotta per i diritti delle donne contro la violenza, contro i soprusi, contro le disuguaglianze. Ora vi leggerò una poesia di Alda Merini. A tutte le donne fragile, opulenta donna, matrice del paradiso, sei un granello di colpa anche agli occhi di Dio, malgrado le tue sante guerre per l'emancipazione. Spaccarono la tua bellezza e rimane uno scheletro d'amore che però grida ancora vendetta e soltanto tu riesci ancora a piangere. Poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli. Poi ti volti e non sai ancora dire. E taci, meravigliata. E allora diventi grande come la terra e innalzi il tuo canto d'amore. Buon otto marzo a tutte donne. Mia donne amatissime, ringrazio voi che col tocco gentile e sapiente della donna ascoltate, curate, accarezzate, i bambini e le bambine che avete messo al mondo, gli uomini e le donne che vivono accanto a voi, i passeggeri sconosciuti che vi toccano nel nostro viaggio di vita. Vi ringrazio con le parole di Vislava Zimborska. Sono quella che sono, un caso inconcepibile come ogni caso. In fondo avrei potuto avere altri antenati e così avrei preso il volo da un altro nido, così da sotto un altro tronco sarei strisciata fuori in squame. Nel guardaroba della natura c'è un mucchio di costumi, di ragno, gabbiano, topo campagnolo. Ognuno calza subito a pennello e docilmente indossato finché non si consuma. Anch'io non ho scelto, ma non mi lamento. Potevo essere qualcuno, molto meno a parte. Qualcuno di un formicaio, banco, sciame rozzante. Una scheggia di paesaggio sbattuta dal vento. Qualcuno molto meno fortunato, allevato per farne una pelliccia per il pranzo della festa. Qualcosa che nuota sotto un vetrino. Un albero conficcato nella terra a cui si avvicina un incendio. Un filo d'erba calpestato dal corso di incomprensibili eventi. Uno nato sotto una cattiva stella, buona per altri. E se nella gente destassi spavento o avversione o pietà. Se al mondo fossi venuta nella tribù sbagliata e avessi tutte le strade precluse. La sorte, finora, mi è stata benigna. Poteva non essermi dato il ricordo dei momenti lieti. Poteva essermi tolta l'inclinazione a confrontare. Potevo essere me stessa, ma senza stupore. E ciò vorrebbe dire qualcuno di totalmente diverso.